1963, 54 anni fa, il governo del paese cambia pelle. Dopo anni di egemonia democristiana e superata la versata parentesi del sostegno strumentale della destra in un clima di colpo di Stato, nasce il primo centrosinistra della Repubblica, formato da democrazia cristiana ma anche socialisti che tornano al governo dopo 17 anni, socialdemocratici e repubblicani. È una fase fondamentale per il paese, la guida Aldo Moro, vicepresidente del Consiglio e Pietro Nenni. Dopo il giuramento davanti al presidente della Repubblica, Antonio Segni, viene superato un non facile scoglio del dibattito parlamentare. Nel programma concordato figurano l'istituzione delle regioni, l'adozione della programmazione economica, le riforme per la scuola, per l'agricoltura, per l'urbanistica. Il nuovo esecutivo ha però vita breve, cade solo dopo sei mesi, inciampando proprio su un provvedimento che riguarda l'istruzione privata. Moro si dimette il 26 giugno ma Segni gli riaffida l'incarico e il secondo governo Moro nasce il 23 luglio, peraltro senza sostanziali cambi di poltrone, anche se dalla stanza dei Bottoni escono i fanfaniani e i socialisti che fanno capo a Riccardo Lombardi.